l'amico patience l'hermy che fine ha fatto è capitano del sesto dragoni è pinson sotto prefetto dracolè è morto stavamo cercando qualche altro nome che ci ricordasse una figuretta giovanile con in testa un chepì dai galloni dorati avevamo ritrovato dopo qualche tempo alcuni dei nostri compagni di collegio da uomini fatti con la barba calvi ammogliati padri di parecchi figli e questi incontri questi cambiamenti ci avevano dato brividi non certo di piacere poiché ci mostravano come sia breve la vita come tutte le cose passino e mutino il mio amico chiese e patience il grasso patience io lanciai quasi un grido oh quanto a lui sta a sentire quattro o cinque anni fa ero in missione a limoges seduta davanti al grand caffè della piazza del teatro mi annoiavo proprio i commercianti entravano a due a tre o a quattro per volta a prendere un bicchierino d'assenzio di vermouth parlavano a voce alta dei loro affari e di quelli degli altri ridevano forte o abbassavano la voce per comunicarsi le cose importanti e delicate mi stavo domandando cosa avrei potuto fare dopo cena e pensavo alla interminabile serata in quella città di provincia alla passeggiata lenta e sinistra attraverso vie sconosciute alla tristezza avvilente che nasce per il viaggiatore solitario dalle persone che passano e vi sono estranee in tutto e per tutto per la foggia degli abiti provinciali del cappello dei calzoni per le abitudini e l'accento locale profonda tristezza venuta anche dalle case dalle botteghe dalle vetture di forma antiquata dai rumori comuni a cui non siamo a sue fatti tristezza e angustia che a poco a poco ci costringono ad accelerare il passo come se ci fossimo smarriti in un paese pericoloso che ci opprimono ci fanno desiderare l'albergo uno di quegli odiosi alberghi dove le camere han conservato mille odori sospetti il letto ci insospettisce e la bacinella un capello incollato alla polvere del fondo pensavo a tutte queste cose osservando i lampionai che accendevano i fanali a gas e sentendo la mia debolezza di solitario a crescersi con la caduta della notte che cosa avrei potuto fare dopo cena ero solo solo perduto un uomo grasso si venne a sedere alla tavola accanto e ordinò con un vocione formidabile il mio bitter cameriere quel mio ebbe nella frase l'eco di una cannonata compresi subito che ogni cosa doveva essere sua proprio sua e non d'altri nella vita di quel signore che egli doveva avere il suo carattere per dinci il suo appetito i suoi pantaloni il suo non importa che in maniera del tutto personale assoluta completa il più possibile egli guardò intorno a sé con aria soddisfatta il cameriere gli portò il bitter e lui allora ordinò il mio giornale mi domandavo quale potesse essere il suo giornale di certo il titolo mi avrebbe rivelato il suo modo di pensare le sue teorie i suoi principi le sue follie le sue ingenuità il cameriere portò il tempio ne fu sorpreso perché dunque il tempio giornale grave grigio dottrinario ponderato pensai è un uomo saggio dunque di buoni costumi di abitudini regolari infine un bravo borghese osò in bilico sul naso gli occhiali dalle stanghette d'oro cambiò posizione e prima di cominciare a leggere gettò ancora uno sguardo circolare mi vide e cominciò a fissarmi in modo insistente e molesto stavo per domandargli il motivo di tanta attenzione quando mi gridò dal suo posto perbacco è proprio gontran lardois risposi sì signore non vi siete sbagliati allora si alzò e mi venne incontro con le mani protese ah vecchio mio come stai rimasi molto imbarazzato perché non lo riconoscevo affatto balbettai ma molto bene e voi? si vise a ridere scommetto che non mi riconosci no proprio no mi sembra eppure mi batte la mano sulla spalla su su non inventare storie sono Patience Robert Patience il tuo compagno il tuo camerata lo riconobbi sì Robert Patience il mio compagno di collegio proprio lui strinsi la mano che mi tendeva e tu stai bene? io benone il suo sorriso esprimeva la gioia del trionfo domandò che vieni a fare qui? dovetti spiegargli che ero un ispettore delle finanze in missione allora indicando la mia decorazione continuò così ti è andata bene? risposi sì non c'è male e a te? oh a me molto bene che fai? affari guadagni molti soldi sì sono ricco ma vieni a trovarmi domani a pranzo a mezzogiorno qui de coquichente 17 vedrai come mi sono sistemato far visitare un istante poi seguitò sei sempre il tipo in gamba che eri una volta? ma lo spero non sarai mica sposato? no meglio così e ti piacciono sempre l'allegria e le patate? cominciavo a trovarlo tremendamente ordinario eppure risposi ma sì e le ragazze belle? ah quelle sì si mise a ridere di buon riso soddisfatto meglio così meglio così ti ricordi la nostra prima scappata a Bordeaux quando andammo a cenare alla bettola di Rupi che orza eh? mi ricordavo sì quella cena e quel ricordo mi infastidì altri fatti tornarono alla memoria e altri ancora lui continuava Dio è quella volta che abbiamo chiuso l'assistente nella cantina del vecchio Latoc e rideva batteva il pugno sulla tavola ripeteva sì 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 e ti ricordi la faccia del professore di geografia Marain quando abbiamo dato fuoco a un petardo nel mappamondo proprio al momento in cui sproloquiava sui principali vulcani della terra ma d'improvviso gli chiesi e tu sei ammogliato? gridò da dieci anni caro mio e ho quattro figli certi birboni li vedrai con la madre stavamo parlando a voce alta i vicini si rivoltavano a guardarci stupefatti d'un tratto il mio amico guardò l'ora al suo orologio un cronometro grosso come una cipolla e strillò accidenti mi spiace tanto ma ti devo lasciare non sono libero stasera scelzò mi strinse la mano tra le sue le scosse come se avesse voluto strapparmi il braccio e disse a domani verso mezzogiorno siamo intesi intesi trascorsi tutta la mattinata a lavorare all'intendenza con il tesoriere cassiere generale voleva trattenermi a pranzo ma gli dissi che avevo un appuntamento in casa d'un amico poiché dovevo uscire volle accompagnarmi gli chiesi dove fosse la rue du Coquichant rispose che era cinque minuti di strada e dato che non aveva nulla da fare che mi ci avrebbe condotto ci mettemmo in cammino quasi subito trovai la strada che cercavo era una via grande assai bella al limite tra la città e i campi guardai le case e vidi il numero 17 era una specie di palazzotto con il giardino dietro la facciata ornata di affreschi secondo la moda italiana mi parve di cattivo gusto erano rappresentate alcune idee recline su urne e altre che nascondevano le loro bellezze segrete in una nuvola due amorini di pietra reggevano il numero dissi al tesoriere cassiere generale vado qui e gli tesi la mano per salutarlo allora egli fece un gesto brusco e un po' strano ma non disse nulla e mi strinse la mano suonai venne ad aprirmi una cameriera le chiesi il signor Patience per piacere rispose è qui signore volete parlare proprio con lui ma sì il vestibolo era ugualmente adorno di pitture dovute al pennello di qualche artista locale Paolo e Virginia s'abbracciavano sotto i palmizi annegate in una luce rosata una lanterna orientale orrenda pendeva dal soffitto molte porte erano nascoste da tende a colori vistosi quel che mi meravigliava maggiormente era l'odore un odore fortissimo e profumato che ricordava la cipria di riso e la muffa delle cantine un odore indefinibile in un'aria pesante grave e torbida come quella che danno le stufe in cui calcinano i corpi umani salì dietro la domestica una scala di marmo coperta ad un finto tappeto orientale e venne introdotto in un sontuoso salone rimasto solo guarda intorno a me la stanza era immobiliata con lusso ma con la pretensione di un arricchito licenzioso stampe del secolo scorso abbastanza belle d'altronde rappresentavano damine dall'alta parrucca incipriata seminude sorprese da cavalieri galanti in posizioni curiose una dama in un gran letto in disordine bamboleggiava giocando con il piede nudo con un cagnolino sepolto tra le lenzuola un'altra resisteva con compiacenza all'amante la mano del quale già si intrufolava sotto la gonna un disegno mostrava quattro piedi i cui corpi si indovinavano nascosti dietro una tenda la grande stanza circondata da mobili e divani era tutta impregnata di quell'odore snervante e appassito che mi aveva già prima colpito qualcosa di sospetto si liberava dai muri dalle stoffe dal lusso eccessivo da tutto mi avvicinai alla finestra per osservare il giardino di cui scorzevo gli alberi era molto grande ombrezzato magnifico il largo viale costeggiava un prato dove si sgranava nell'aria un getto d'acqua entrava poi in un boschetto e ne usciva poco più in là e all'improvviso in fondo in fondo tra due cespugli sedui apparvero tre donne camminavano lentamente tenendosi abbracciate erano vestite di lunghe vestaglie bianche con una nuvola di merletti due bionde e una bruna rientrarono ben presto sotto gli alberi io rimasi sballordito in estasi davanti a questa fugace e meravigliosa apparizione che fece rinascere in me tutto un mondo poetico si erano appena fatte vedere ma nel giorno adatto nella cornice delle foglie nel fondo d'un parco delizioso e segreto avevo veduto con uno sguardo soltanto le belle dame del secolo passato che passeggiavano sotto i viali di Carpini quelle belle damine i cui amori leggeri erano ricordati dalle stampe galanti delle pareti e pensavo a quel tempo felice fiorito spiritoso e tenero quando i costumi erano tanto miti e le labbra tanto facili un vocione mi fece sobbalzare era entrato Patience e mi tendeva raggiante la mano mi guardò in fondo agli occhi con l'aria sorniona che assumeva nelle confidenze amorose e con un gesto largo e circolare un gesto da Napoleone mi mostrò il suo sontuoso salotto il parco le tre ragazze che passavano ancora nel fondo del parco poi con voce trionfante dove cantava l'orgoglio e pensare che ho incominciato con niente mia moglie e mia cognata che ho incominciato con niente 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 Grazie a tutti